ben trovati ciao a tutti molte volte mi capita di salire sul palco per un corso un seminario un convegno eccetera ma non è questo il frangente vi ho solo riunito qui con il mio faccione enorme perdonatemi davanti a tutti voi per rivolgervi un affettuoso augurio di buona pasqua per strappare anche un sorriso da che è evidente come questa pasqua sia surreale e non ci sia di fatto niente da festeggiare però uno scambio di auguri vuole sempre essere secondo me un modo per ricercare quella speranza quella piccola normalità di cui tutti abbiamo bisogno e che ho il piacere di condividere con voi a cui mi lega un rapporto di stima professionale ed umana e di affetto ed allora buona pasqua buona pasqua sincera da trainer andrea che sapete un po il mio marchio di fabbrica per quanto riguarda il mondo digitale e cartotto analogico che ha l'altrettanto mio marchio di fabbrica per tutto ciò che riguarda il mondo fatto di cose non necessariamente digitali ma tanto care quali gli affetti una frase di effetto una riflessione e così via ciao a tutti ciao a tutti a presto in carne ed ossa